L'altra parte del lavoro è su musica, corpo, spazio e voce. La voce di un professore è una voce che è molto spente, potrei dire, spente, no? E' una parola, una parola, una parola che viene fuori. E poi ho riconfigurato le strumenti, ma cambiare. E' ancora un problema, ma non è regolato. Questo, che ho scritto, è quello che ho scritto nella mia logica. È molto diverso, non in Italia, non in Italia, ma in Italia. È un po' scientifica. È un po' di esperimenti, la impressione della mia logica. Il mio lavoro è un po' di esperimenti. 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 È un po' di esperimenti.